Buon dia, buon dia e buon caffè a tutti. Il caffè oggi lo voglio dedicare a quei ragazzi, i tantissimi ragazzi che affrontano l'esame di ammissione all'università, alle professioni sanitarie. Che paese ridicolo che è l'Italia. Non abbiamo medici, tanto da doverli far venire dall'estero, non investiamo nella specialistica, quindi abbiamo laureati in medicina ma non medici e facciamo questo assurdo esame di ammissione con spese, imbrogli, aule. Veramente è una cosa ridicola, ma perché non si possono iscrivere tutti all'università e poi durante il corso degli anni chi merita va avanti, chi non merita va a zappare. È la cosa più semplice, più normale in un paese civile. Speriamo che il ministro Cazzolina, Cazzolina naturalmente in maniera scherzosa, finalmente almeno questa questione la affronti. Nel frattempo un abbraccio ai tantissimi che oggi affrontano l'esame di ammissione alle facoltà sanitarie.